Sono sarcofagi alti di un metro e venti, poi c'è il coperchio di un altro metro e mezzo e ce n'è uno in compiuto che sta all'interno di questa grotta enorme perché di solito in Egitto devi sempre entrare invece lì per fare entrare questi sarcofagi gigantesco e mi metto di fianco a uno di questi sarcofagi e per dare una sensazione della grandezza, come vedete, io sono alto due metri quindi questo sarcofago prima del coperchio è alto due metri e venti così ho cercato di dare un termine di paragone è arrivata una mail che fa e va bene che è andato nel posto dove non aprivano nessuno va bene che ci ha fatto vedere per la prima volta i sarcofagi gigantesco ma adesso pure è alto due metri